Diario 5, Angari Amato. Questa dovete vederla assolutamente. Stavo lavorando alla testa di Labor quando questa si è accesa. Una luce al suo interno ha iniziato a lampeggiare. Secondo me abbiamo un segnale, finalmente. Ma... Non capisco, fino a un attimo fa sembrava Natale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS